Vengono chiamati dai fisici nuclei esotici perché, simile alle stelle, sono nuclei atomici molto particolari, instabili dalla brevissima durata. Da oggi, studiando i raggi gamma che si emettono quando decadono, si potranno migliorare tecnologie biomedicali come la PET per l'analisi nucleare dei tumori e rendere più efficaci i controlli di materiale radioattivo. È basato su una tecnologia innovativa che utilizza i cristalli di germanio in modo sensibile alla posizione, che è una delle novità del progetto, e consente quindi di avere informazioni supplementari rispetto a rivelatori di tipo convenzionale. In particolare, non vediamo solo l'energia del raggio gamma che interagisce con il rivelatore, ma capiamo anche da che direzione è venuto. Si potranno fare delle indagini che avranno una risoluzione, una precisione maggiore, dando al paziente una quantità inferiore di radiazioni. Si può anche utilizzare gli stessi principi per poter esaminare se all'interno di container ci possono essere delle merci pericolose, di tipo per esempio radioattivo. Sono applicazioni di là da venire, ma sono delle cose a cui pensiamo. Il rivelatore si chiama Agat e ci lavorano almeno 100 persone operanti in 13 paesi europei. Per realizzarlo e metterlo in funzione ci sono voluti due anni, ora rimarrà a Padova per almeno due anni, per poi emigrare in un altro istituto universitario dell'Unione Europea. Quello padovano però è solo il primo step per la creazione di un rivelatore in grado di catturare e segnalare le particelle nelle reazioni nucleari. Ma è comunque il più grande sviluppo tecnologico in spettroscopia nucleare degli ultimi 30 anni. È composto da 180 cristalli esagonali di Germania.